Da sabato la frazione Campo a Tremezzina avrà la piazzetta Gian Giuseppe Brenna. Scomparso nel 2006, Brenna nacque a Campo, succio di Tremezzina, il 23 novembre 1920. Alenno frequentò le elementari per poi spostarsi a Torino, liceo classico, e a Pavia si laureò in medicina e ottenne la specializzazione in odontoiatria. Dentista molto noto in tutta la provincia, si applicò alla professione con dedizione tra i due studi di Campo e Como, guidando per oltre 30 anni l'Associazione Medici Dentisti della provincia di Como. Brenna dedicò grandi energie non solo al suo lavoro, ma anche alle sue numerose passioni. Nel dopoguerra fondò gli Amici dell'Isola, organizzò per primo la Festa di San Giovanni, la Battaglia Navale dell'Ario, Tremezzina Gastronomica. Per lungo tempo fu delegato l'Ariano dell'Accademia Italiana della Cucina e nel 1976 fondò il Rotary Club Como Baradello. La cerimonia per l'intitolazione della piazzetta di Campo a Brenna è in programma sabato alle 16.45. Il sindaco di Tremezzina, Mauro Guerra, scoprirà la targa, poi la celebrazione, quindi il concerto dell'orchestra Antonio Vivaldi. È un segno di riconoscimento all'alto profilo umano del dottor Brenna, dicono sindaco e consiglio comunale di Tremezzina, che, precursore di numerose iniziative di carattere turistico e culturale consolidatesi nel tempo, ha contribuito alla valorizzazione e all'attrattività del nostro territorio e del paesaggio lariano. Grazie. 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 Grazie.